Abbiamo anche un responsabile della trasparenza che è appunto il dottor Pirone e che in prospettiva dovrebbe essere assorbito dal responsabile antiproduzione, la posizione ovviamente mi riferisco non al dottor Pirone, quindi le due posizioni dovrebbero tra loro interiarsi, tant'è vero che anche il piano trasparenza è diventato parte interiante del piano antiproduzione e quindi speriamo che il dottor Pirone possa diventare anche il responsabile dell'organizzazione. Così c'è la fucilazione ufficiale, insomma, definitiva. No, sappiamo che abbiamo un nuovo responsabile dell'antiproduzione in petto, ma non lo dico chi è. No, c'è una versione di genere che bisogna fare un'alternazione. Un'alternazione che accoglia. Allora, intanto buongiorno a tutti. Per quanto riguarda un po' tutte le cose che hanno riferito i colleghi, in effetti trovate riscontro sul sito istituzionale dell'istituto nella sezione amministrazione trasparente. E io perché invece non vado direttamente sul sito per stuzzicare la vostra curiosità e andare direttamente. Quindi vi riferirò alle sezioni, ma andate voi direttamente a vedere. Allora, sulla parte chiaramente che riferivamo dell'attività di legalità, c'è stata una particolare attenzione nell'evoluzione della sezione. Quindi come è stato anche in parte riferito, sia la parte che riguarda i contratti, così come anche la parte che riguarda il codice di comportamento e ancora per quanto riguarda gli aspetti della anticorruzione, sono stati tutti i vinseriti. Per quanto riguarda in particolare gare e così come anche le procedure di reclutamento, ovvero il codice di comportamento, sono stati anche esplicitati con una forma di estrazione dei dati in maniera diretta. Per quanto riguarda in effetti più in generale la parte del sito amministrazione trasparente, ci sono due aspetti che possiamo collegare direttamente col sistema sanzionatorio. Il primo, in effetti forse in Ispra è meno forte perché l'organo politico in pratica è il presidente. Negli enti locali, infatti, vedrete che come è strutturata l'amministrazione trasparente sostanzialmente riguarda soprattutto le regioni enti locali, dove è molto forte l'aspetto politico di distrazione, diciamo, degli indirizzi poi leciti che dovrebbe perseguire l'amministrazione. E non da poco, anche con ritrosia un po' da parte del presidente, diciamolo pure, si è dovuto pubblicare obbligatoriamente persino il 730. Vale a dire, per gli organi politici non solo vengono richieste particolari dichiarazioni, ma viene verificata con particolare attenzione anche la situazione patrimoniale. in maniera, diciamo così, in dissolvenza avviene per gli altri consiglieri e poi c'è questa figura un po' particolare che ha determinato all'interno dell'istituto anche un po' di polemica, perché no, diciamolo così, tra la categoria dei dirigenti e la categoria dei responsabili di servizio che invece rivestono quella funzione similmente, ma hanno una diversa struttura retributiva, dove, sentita direttamente ANAC più di una volta, anche ultimamente, è avvenuto che, mentre per i dirigenti in maniera esplicita deve essere inserita la struttura retributiva, per i dirigenti, tecnologi, ricercatori e così via, invece, è da valutare se all'interno di posizioni organizzative in qualche maniera si può fare un simile. Però, per dare un'indicazione a tutti i colleghi, perché in questo momento ANAC ancora non ci ha risposta, ha risposto in linea generale sui dirigenti, tecnologi e ricercatori, ma ha confuso qual era la loro funzione, cioè immaginava che ci fosse uno sviluppo di carriera, ovvero un reclutamento simile ai dirigenti, pensavo un po' ai dirigenti tecnici dei ministeri, per intenderci, quindi sta andando a valutare, cioè la domanda è stata seguente, ma quindi hanno una retribuzione di risultato, questo era il pallino? La risposta è no, però c'è un'indennità di direzione e struttura, c'è un'indennità di direzione e strutture particolari e così via, e lì sono andati un po' in tilt e ci devono rispondere. È un problema non solo di Ispra, ma chiaramente di tutto il segmento di ricerca. Però ai vari colleghi che hanno avuto la pazienza di rimanere, proprio per collegarmi invece a quello che diceva il dottor Lacomare, giusto per andare un po' su fatti concreti, ogni tanto il discorso delle voci, ma quando prendono i dirigenti, quando prendono i dirigenti tecnologi e così via, oppure che situazione c'è in istituto anche da un punto di vista economico. Paradossalmente questi dati, e questo mi dispiace ogni tanto, lo dico anche alle organizzazioni sindacali, a volte senza bisogno di chiedere, probabilmente il dato ce l'hanno già, e nome e cognome, corte dei conti, la maggior parte dei dati, quando fa le sue relazioni, li recupera proprio lì, vale a dire sul sito. Sul sito ci sono due sezioni dove ciascuno di voi può accedere e verificare. Una è quella di bilancio, dove necessariamente l'istituto, e attenzione, è sanzionato pesantemente l'istituto qualora non lo pubblicasse, proprio tre settimane fa è stata pubblicata di concerto con ANAC e Ministero dell'Economia e delle Finanze le nuove linee direttive su come doveva essere esplicitato questo bilancio, quindi in questi giorni proprio stanno modificando con CEDAF da parte di APA proprio lo schema, avete il dato completo degli ultimi tre anni con tutte le evoluzioni. Alcuni di voi potranno dire, sì, ma a me interessa soprattutto la situazione del segmento personale. C'è il documento cardine di corte dei conti, riferisco sempre corte dei conti perché IGF, tutto sommato, o IGOP, vale a dire le due strutture di ragioneria generale dello Stato all'interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze, poi questo strumento che vi sto per citare, in effetti ce l'hanno anticipatamente mediante il sistema telematica. Allora a dire, il conto annuale, se voi andate in alto a destra dove c'è ricerca, giusto non avendo eventualmente la pazienza di andare all'interno di amministrazione trasparente, andarla a cercare, per la cronaca sta su amministrazione trasparente, personale, dotazione organica, costo del personale a tempi indeterminato, però in alto a destra i colleghi di Bibweb hanno inserito funzionalmente quel sistema di ricerca, sul conto annuale trovate vita, morte e miracoli di tutto ciò che riguarda il personale di ISPRA sia sotto il riferimento dell'assenze, sia sotto il riferimento di dati statistici, sia sotto il riferimento retributivo. Per cui, se in qualche maniera, senza volerlo, oppure volutamente, nei prospetti non sono ben definiti le indicazioni in tal senso, ma per tutti questo, sul conto annuale, essendoci banalmente, intanto un dato prospettico che per tre anni ogni volta viene verificata l'evoluzione, oltre al dato complessivo c'è anche il numero dei dipendenti e dei soggetti che ne hanno fruito, e basta una semplice operazione aritmetica per determinarla. Così come anche gli andamenti di un istituto, come stanno sostanzialmente andando, beh, ci sono già due eventi che possono essere determinabili e determinati all'interno di un'analisi, appunto mettendo insieme il bilancio dell'istituto, insieme a quello che riguarda il personale. Qual è l'incidenza di uno rispetto all'altro? Ma dirò un altro aspetto ancora. Molto forte per quanto riguarda le amministrazioni statali e gli enti locali, un po' meno noi, ma che in qualche maniera anche noi ormai poniamo in essere. Ciò che riguarda i procedimenti e le attività di pianificazione delle opere pubbliche. Ora, opere pubbliche, dice, ma io non faccio strade, io non faccio altre attività di urbanizzazione. Sì, però indirettamente, come voi sapete, c'è un elemento cardine, per esempio, per quanto riguarda la stessa vita di un istituto, che riguarda gli aspetti della sicurezza. Sugli aspetti della sicurezza, parte quando diceva il collega Lazzarini, se un ispettore del lavoro trova che ci sono delle cose che non vanno, nel caso peggiore arrivano addirittura a chiuderlo una sede di lavoro, ma in altri casi arrivano con sanzioni dirette. E in questo istituto, grazie anche a qualche, diciamo così, buon tempone, sono arrivate, siccome sono, seppur con un tono in alcuni casi, perché sono proporzionali al tipo di evento che viene rilevato, direttamente iscritti alla persona che è il datore di lavoro, il rappresentante dell'istituto o colui che ha la gestione di quell'area. E allora lì si vede, per esempio, le attività in cui l'istituto si sta avviando, vale a dire, per esempio, tutte le attività, ad esempio, sulla sede di Ozzano. Perché dico questo? Perché sulle spese in conto capitale, sostanzialmente, su quella sezione, in effetti c'è perfetta evidenza. Allora per dire che cosa? Che in maniera congiunta è chiaro che una struttura ispettiva dall'esterno riesce, mettendo insieme questo che sto riferendo, vale a dire, abbiamo detto prima, evoluzione delle gare. Abbiamo detto prima, bilanci, abbiamo detto, conto del personale. Riesco a tracciare qual è una possibile traiettoria di un ente tenendo conto degli ingressi, e lì lo trovo sul bilancio, delle entrate verosimili o utili. Su questo punto di vista, per esempio, c'è un punto che invece colgo l'occasione, visto che c'è qua il responsabile dell'anticorruzione, ma più in generale, forse c'è una cosetta che potremmo mettere ancora più in evidenza, vediamo su altri contenuti, guardando qui i colleghi di Bibweb, che potrebbe essere quello di un'area che non è sempre così, chiamiamola trasparente o leggibile, diciamo leggibile, che riguarda la gestione dei progetti di ricerca. Dico questo dei progetti di ricerca perché proprio partendo dal conto annuale a me è venuto fuori un rilievo da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ma chi mi dice che tutti questi tempi determinati, per come li vedo qui sul conto annuale, siano effettivamente progetti di ricerca quando in effetti ci sono o non ci sono poi i flussi di entrata per cui si trasformano poi elusivamente in istituzionali. Allora invece senza voler fare azioni perché l'istituto non vuole fare azioni elusive, forse prima o poi è utile che un quadro a livello di traccia su questo tipo perché molte volte sta emergendo che ci siano disparità per esempio di gestione del costo. Qual è il costo del personale? Per ognuno lo vedi in una maniera diversa. In effetti è vero anche questo aspetto perché la diversa prospettiva che può guardare chi gestisce il personale banalmente per il rapporto di lavoro sotto il profilo contrattuale piuttosto che quello di rendicontazione di un progetto europeo, piuttosto che di un progetto internazionale, oggettivamente cambia. Ma in linea generale deve avere una visione ben chiara. E questo perché lo dico? Perché io non voglio stare in una situazione opaca, voglio mettere lì in campo di fronte, ripeto, agli organi ispettivi. Perché dopo a quando gli si chiede, ma tu come hai avuto questa informazione? L'ho avuto attraverso il tuo sito. Un po' anche per dare evidenza che loro effettivamente hanno fatto la verifica se effettivamente fosse stata applicata la norma di pubblicità. Pubblicità quindi intesa sul sito. Ma non solo. Per quanto riguarda altri aspetti, domande di vario genere che arrivano. Domande di vario genere che arrivano, quindi volerei dare anche un elemento di, diciamo così, di interlocuzione. E vorrei far riferimento in altri contenuti a un istituto che è stato posto in essere il cosiddetto accesso civico. Giusto per andare rapidamente, per non dare, diciamo così, a di tal fatto che non voglia far dare da parte vostre domande, c'è questo aspetto. L'accesso civico differisce dal diritto di accesso ordinario sul fatto che sostanzialmente, allora quando voi inserite su accesso civico la vostra domanda, arriva soltanto al responsabile della trasparenza con riferimento ai contenuti che devono essere pubblicati, ovvero non sono pubblicati sul sito. Ma una vostra domanda diretta di altro genere segue il normale percorso del diritto di accesso per cui le due cose non sono chiaramente sovrapposte, riguardano due aspetti diversi. Il nome sembra simile ma non è, quindi accesso civico è l'interlocuzione. Ad esempio non c'è questo dato e io denuncio che non c'è questo dato, ovvero questo dato non è stato aggiornato oppure perché non hai inserito questo dato a questa risposta devo essere io colui che deve dare un'indicazione. Non è la stessa cosa se in un concorso ad esempio o capita per esempio in altre occasioni che si dice ma io vorrei avere accesso a determinati atti, no, in questo caso non c'entriamo assolutamente noi come diritto di accesso. Volevo dirlo perché questo è un aspetto di quelli che sta arrivando in maniera frequente. E' l'interesse che cambia. Giusto a conclusione perché così lascio spazio alle domande ed è il seguente fatto o chiaramente il sito è un, il sito, le sezioni del sito, amministrazione trasparente, quindi in continua ed evoluzione dovuta anche al fatto che sono diversi, mi ricollego a Salvatore Macchio e qui, agli interessi che vengono posti, chiaramente essendo un profilo di pubblicità e di trasparenza, allora quando non sono, diciamo così, leggibili o interscambiabili o comparabili le informazioni tra amministrazioni, il legislatore interviene per modificarle. E a conclusione vorrei far notare che sul fatto che qualcuno dice ma gli enti di ricerca come mai devono assolvere a questo compito visto la loro particolarità e in effetti non solo devono assolverlo gli enti di ricerca ma addirittura è stata estesa alle società a partecipazione pubblica. Quindi a maggior ragione non è la flessibilità di un'amministrazione e vi posso garantire che gli enti di ricerca, se fossero società pubbliche, a totale partecipazione pubblica, sarebbero chiaramente molto più flessibili quando meno sull'aspetto di celerità sul segmento che riguarda la parte amministrativa nome e cognome Enel nome e cognome poste italiane hanno fatto un balzo in avanti quando si sono spogliate del fatto che erano amministrazioni pubbliche dove c'è stato il passaggio dove voi ben sapete in contabilità di Stato da amministrazione statale a ente pubblico economico a ente pubblico poi non economico ed è passata e noi siamo già un ente pubblico non economico sotto il profilo giuridico a diventare invece società per azioni e nonostante questo però nome e cognome ripeto Enel Eni poste italiane devono anche loro assolvere queste funzioni lascio la parola al responsabile dell'anticorruzione grazie Francesco sempre ficcante Francesco sempre grazie